Sì, ecco, vorrei salutare i professori, i tecnici che sono intervenuti oggi qui all'Ammassato Siale Comune per questo tipo di sintesi, diciamo, di questo lavoro che è stato posizionato ancora nell'anno 2019 dell'Ammassazione Comunale, relativamente ai tasi idrogeologiche e idrocliniche per la tutela di risorse idrica che l'Ammassazione ha voluto commissionare proprio per condurre un approfondimento sullo stato, chiamiamolo di salute, della discarica di melagon, perché c'erano dei dubbi sia sulla staticità del contenitore, come sapete venisse in questo grande invaso grande, come il cemento armato, si trova proprio sopra, in una palda idrica e quindi avevamo il timore che potessero essere nel posto degli anni degli dispersamenti di materiale lucido che sotto abbiamo appunto la sorgente di un polinero. Quindi già nel 2019 abbiamo insistito appunto anche tra di noi, abbiamo parlato sulla opportunità di affidare questi incarichi dell'Università di Padova e abbiamo voluto condurre questi incertamenti che già hanno manifestato una sintesi che è già stata resa pubblica e che è già stata resa nota circa anche la non presenza di rischi nella discarica di melagon e che oggi comunque noi andiamo a completare con un ulteriore approfondimento che è stato commissionato da Padova. Io ringrazio appunto i professori che sono presenti, la professoressa italiana, la direzione del CIPA, il professor Giotto Cassiani e abbiamo appunto voluto arrivare ad oggi per jugare qualsiasi dubbio sullo sversamento che poteva essere un sospetto relativamente appunto ad una macchia che era messa, mi correggete il sbaglio, proprio da queste fotografie che erano state realizzate, questi sistemi sofisticati che hanno permesso un idrazo pieno della nostra discarica. Quindi io mi fermo qua, lascerei la parola all'assessore all'ambiente Monica Giosi che ha coordinato questa attività, che è un'attività che si è voluta intraprendere appunto con l'appallo di tutta l'administrazione comunale, con l'assessore Monica Giosi ma anche con l'assessore Villara Stefano e il presidente dell'administrazione dell'assessore Piero Rigoni che è l'assessore che oggi è delegato al governo del mondo. Che ringrazio per aver portato avanti questo volo di cofine. Cedo la parola all'assessore Monica Giosi per una breve registrazione del nuovo post-work per poi passare appunto ai tecnici che hanno lavorato su questa discarica. Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti tutti quanti. Come ha riuscito bene il sindaco e siamo arrivati a una conclusione rispetto alle indagini che sono state fatte sulla discarica di Melagon proprio per valutare il rischio che questa discarica poteva, come dire, essere rispetto all'integrità delle acque che si generano alla base dell'essiccio classico, ovvero poteva essere un rischio per i sorgibili dei sorgenti del vero. Questo perché questa discarica esiste in una zona particolare dell'alto piano, zona che è caratterizzata da un forte classismo. Quindi c'è stata una preoccupazione da parte nostra rispetto appunto alla tenuta di questa discarica nel tempo. Questa preoccupazione è stata accolta dall'amministrazione che ha appuntamente ingaggiato gli ingegneri di Parola, l'ingegner Deyanna e l'ingegner Cassiani per poter condurre un'indagine approfondita con questi metodi molto avanzati. Il risultato è stato un risultato che se da un lato ci ha comportato perché non faceva presagire la presenza di grandi capitali sotto della base della discarica, che era un po' l'occupazione principale che si aveva rispetto appunto alla possibilità che questa discarica potesse implodere e ricadeva all'interno stesso delle capitalità classiche. Però nello stesso tempo è stata segnalata la presenza di una macchia, chiamiamola così, che poteva far presagire e ci fosse una perdita di liquido da parte della base della discarica. E' stato fatto un ulteriore approfondimento, pare che questa perdita non ci sia e che questa zona umida che si vede alla base della discarica attraverso l'indagine ripetuta dall'ingegnere di Padova, sia in realtà una macchia che non ha a che fare con lo smersamento di percolato. Questo ci comporta, ci dà speranza che appunto le nostre acque non vengano contaminate assolutamente da un'eventuale perdita appunto in questo momento della discarica, però ci fa pensare comunque che questo è un punto di partenza, non un punto di arrivo. O meglio, sappiamo di avere questa presenza in alto piano, sappiamo che nel tempo le discariche vengono a modificarsi, non sono mai statiche, il contenuto delle discariche continuano a modificarsi sia in peso che in composizione. Quindi questo deve essere comunque un punto da cui partire per continuare ad osservare nel tempo come si comporta questa discarica e continuare a mantenere monitorata la qualità e l'intimidità delle nostre acque. Ma alcuni quest'anno ci siamo resi conto che il massiccio classico riesce a prendere acqua anche in assenze di precipitazione. Quindi, ancora di più, il valore di mantenere integre le nostre acque diventa un massiccio classico che è un valore importante e altro. Attraverso queste guinda adigine siamo arrivati a capire che abbiamo ancora la possibilità di progenarci di acqua pulita. E facciamore che questo rimadesse così nel tempo anche per le generazioni future, o meglio, siccome questa discarica è stata chiusa quindi non riceve più inquinanti. E' stata dichiarata completamente non più, come dire, consopribile. Ecco che da lì in poi è partito il periodo di controllo post-mortem che durerà trent'anni e che sarà in capo a Dawa per trent'anni. Passati questi trent'anni, ovviamente questa responsabilità con era in capo al comune. Noi non dobbiamo dimenticarci nel tempo che comunque dovremmo continuare a controllarla per far sì che non diventi un problema nei migliori futuri. Quindi se da un lato siamo molto contenti del risultato, dall'altro sappiamo che comunque non finisce qui, dobbiamo mantenere costante il controllo nel tempo proprio per garantire le future generazioni di poter avere quello che abbiamo avuto noi. C'è vero acqua pulita. Grazie mille a tutti quanti. A quanto detto dal sindaco e dall'assessore posso aggiungere che adesso sarà interessante per tutti vedere i risultati della ricerca fatta dalla Università di Padova che abbiamo caricato appunto ancora nel 2019 come ente nel metro, neutrale, rispetto alla discarica stessa, non avendo nessun interesse in merito nel luogo. E anche vedere il risultato di questa analisi compiuta da Ava in quanto per trent'anni appunto come ho detto, devono fare dei controlli costanti. Aggiungo, guardiamo queste analisi anche pensando che proprio di recente sono proseguite le esplorazioni dei rami, delle sorgenti dell'oliero che sono iniziate circa vent'anni fa con dei risultati buoni, ma in questi ultimi dieci anni prima sono iniziate con lo sperio sub Luigi Casati e sono proseguite negli ultimi dieci anni con il team di sperio sub, sono austriaci, svizzeri e tedeschi. E loro hanno proseguito molto nell'esplorazione sia nel ramo che giunge al cuore dei Siori che a quello che arriva al cuore dei Vecci. proseguendo con grandissime difficoltà fino ai punti attuali, guardando, hanno ricordato sulla mappa il loro percorso fatto e vediamo come i rami proprio convergono nella zona proprio di di Medagon, della valle di Medagon. D'altra parte sappiamo che circa l'80% delle acche dell'Altocchiano si convoglia proprio in quel bacino, quindi motivo in più per tenere la discarica, visto che ormai purtroppo era stata già realizzata molto prima che noi fossimo amministratori, e di tenerla sempre monitorata. Ecco, e grazie a tutti di essere venuti. Grazie, buongiorno a tutti, porto i saluti e ringraziamenti dell'Università di Padova, coinvolto in questo studio detto correttamente, ringrazio il sindaco, l'assessore e la dottoressa Stefani per aver introdotto e sintetizzato il lavoro fatto dell'Università di Padova, chiamati in causa di questo studio come endemontale. Sintetizzo solo brevemente quella che è stata la procedura scientifica che ha accompagnato poi le verifiche che sono state eseguite da Tava e da Silogeo in particolare. Tutto lo studio è stato percevuto da una modellistica tridimensionale preditiva sulla base di due quesiti fondamentali che sono stati che non riassunti. Il primo, la possibile presenza di grandi capitali sotto della discarica che potessero costruire un problema dal punto di vista strutturale. Il secondo, la presenza di perdite, quindi percolato, che potessero andare a inquinare le falde preziose di cui si è parlato. I due quesiti sono stati realizzati con una modellistica preditiva tridimensionale che ci ha consentito in campo di progettare e realizzare le misure con diagnostica di tipo non invasiva, con tonografia e resistività, che rispondono ai due quesiti appunto con due risposte completamente diverse. Da una parte i vuoti con risposta alto resistiva, quindi in un passaggio di corrente, dall'altra l'acqua o liquidi di qualsiasi genere, soprattutto il percolato molto conduttivo, con risposta a punto conduttiva. Si è parlato di una macchia, allora escludendo la presenza di grandi cavità in sotto della discarica con questa modellistica e poi con le misure che hanno controllato appunto l'assenza di grandi risposte resistive. La presenza di questa macchina di cui si è parlato in precedenza si è supposto fosse non tanto legata alla presenza di percolato quanto alla presenza di acqua. questa risposta qui confermata appunto grazie alle percorazioni che sono state vedendo. Oggi quindi possiamo parlare di un esempio verifoso portato avanti dal comune di Asiago attraverso questo studio e questi risultati che danno le prime garanzie. Non lupo, con ulteriore tempo, lascio la parola all'ingegner Soltani che illustrerà appunto la fase finale con verifica di queste evidenze. Grazie. Grazie professoressa, buongiorno a tutti. Allora, nella presentazione odierna troverete una sintesi che asciutta dei risultati che appunto sono stati già anticipati negli interventi precedenti. Quindi abbiamo articolato una decina di slide giusto per dare un risponto di completezza rispetto alle argomentazioni di cui già è stato fatto qualche senno. Quindi c'è una premessa che riassume gli obiettivi della nostra investigazione diretta che trae appunto spunto dalle conclusioni appena citate dalla professoressa Deiana derivate dalla tomografia elettrica di diversità. Alcuni cegni riassuntivi sull'impianto di discarica con un aggiornamento di data di gestione che è interessante per far capire le attuali tendenze della produzione del percolato a seguito del completamento della copertura dell'impianto che ovviamente precede il collado funzionale della fine dei conferimenti della discarica. Il capitolo 4 richiama per sommi capi la parte di geofisica e poi 5, 6 e 7 andremo a vedere velocemente che cosa abbiamo sviluppato direttamente in campo per dare concretezza allo studio che il gestore anche di centino ambiente ci ha commissionato. E' già stato citato il fatto che la discarica si ubica in un contesto assolutamente delicato direi che è un punto di vista imprescindibile sia per i caratteri fisiografici, per la posizione territoriale e per l'assetto idrogeologico che l'impianto ci ottende. Ecco, il gestore anche di centino ambiente a seguito dell'input che consegue alle verifiche le geofisiche ha dato input e attivazione rispetto alle indagini inerite, sperimentali che attraverso una perforazione profonda di 5 metri che abbiamo condotto pre-concordando l'ubicazione con i docenti del Messina di Padua in modo da corrispondere il focus dell'indagine rispetto a quella famosa macchia di cui si era parlato prima, questa indagine ha l'obiettivo di mettere a fuoco effettivamente le caratteristiche del sottosuolo in ordine alla verifica che le richieste del gestore di comprensione e approfondimento della situazione ambientale profonda ci siano appunto prefissi. La riscarica è attiva dal 2001, autorizzata con una capienza complessiva di 140 mila metri cubi e a partire dal 2004 altro licenzio ambiente riceve in gestione l'impianto e il gestore nel senso di legge ha provveduto con i vari avventimenti connessi con la normativa di settore e i controlli correlati. Ava ha utilizzato la riscarica in maniera conservativa per far fronte anche alle eventuali eccedenze in caso di fermo dell'impianto di termogalizzazione e in manutenzione, ad ogni buon punto l'impianto ospita essenzialmente il frutto secco residuo di spazzamento fradale e i conferimenti cessano di fatto nel maggio del 2018. I lavori conclusivi che sigillano definitivamente la struttura dell'impianto di stoccaggio controllato, quindi il capping, la copertura, si continuano nel giugno di evidenti con il collardo poi del gennaio 2021. E' interessante citare, poi ci sarà un grafico molto esplicativo, che l'efficienza attuale del sistema di impermeabilizzazione sommitaria della discarica che in qualche maniera misura in grado di efficacia del ripristino conclusivo si assesta sul 95%, che significa che la produzione di percorato attuale residua è rossomodo pari al 5% solamente del volume d'acqua meteorica che si può praticare sopra al sedile del impianto di stoccaggio. Quindi va da sé che a seguito del completamento dei lavori di impermeabilizzazione è diminuito di molto il volume di questo liquido residuo che si forma appunto dal contatto tra le api piovane e i rifiuti stoccati nell'impianto. ecco il grafico di cui vi parlavo prima, dove vengono correlate sostanzialmente la produzione di percorato in colore rosso espresso in metri cubilese con l'andamento delle piogge. Si vede una correlazione assolutamente diretta, abbastanza intuitiva, nel periodo che anticipa il completamento del catting della discarica che è rappresentato dalla linea verticale di colore verde che appunto accade nel giugno 2020. La tendenza a seguire è la tendenza attualizzata, dove nonostante le precipitazioni, ovviamente indipendenti da ogni attività anatropica, la produzione del percorato assume una tendenza direi sicuramente confortante in decrescita. Quindi questa è una situazione che i monitoraggi del gestore certificano in maniera assolutamente positiva e confortante. Nella parte bassa del diagramma vedete i tre periodi sostanziali in cui si è fatto cenno finora, quindi il fine conferimento del rifiuto e nella parte centrale il momento in cui l'Università di Parma realizza la tomografia elettrica dell'inestitività, se non ricordo male più nel 2019 e poi l'inizio del monitoraggio automatico che con la nostra attività inedita e sperimentale e che è ancora attivo in questi giorni appunto AVA esercita per il controllo definitivo e finale della qualità del sottosuolo. Questo slide era un cenno brevissimo e sintetico al tema appunto dell'ingegno di geofisica condotto dall'Università di Padova. Non so se il professor Cassiani aveva intenzione di dare qualche altro elemento di supporto o se si era a porti piano. E' un'ottimo esempio di come si deve procedere sempre. Si fa un paragone con quella che è la targa medica. La targa medica è, si fanno la tomografia in quel caso la GX, si individuano eventuali punti sensibili e le macchie, come si diceva prima, e poi si fa una biopsia. La biopsia era fatta a Sottani e la parte, diciamo, topografia era fatta no, quindi giusto per capire di dove stiamo parlando. A destra vedete il risultato finale dell'indagine, quella linea, diciamo la cucina e il controllo esterno della discarica, che è uno al quale abbiamo messo tutti gli elettrodi, e la ricostruzione che vedete è la situazione della formazione rocciosa sopra la discarica. L'assenza di oggetti conduttivi, in tesi scuola per gli oggetti non esistivi, grandi, che saranno rossi, indica l'assenza di una altra realtà. Paglantilità in ogni identità. Magari ci sono cavità più piccole, nel niente caso c'è un senso piccole o piccole fatture per l'età, ma non ci sono grandi cavità. Mentre quella macchie blu, tra l'altro proprio in corrispondenza al volo della discarica, è una indicazione di una zona conduttiva elettricamente che poteva essere dovuta, poteva essere dovuta un'altra zona di fondo della valle, dove accumulo sia i 6 minuti di acqua che, diciamo, c'è da tenere da aspettarsi, però poteva anche essere il risultato di un'acqua che è producita di quel colato. E quindi a quel punto abbiamo, quando l'organizzazione comunale, un po' insistito che era necessario fare un'invasione diretta per essere più sicuri. Grazie Giorgio. Quindi i presupposti sono chiari e avendo concordato insieme con l'Università il punto del sondaggio, nel luglio del 2021 abbiamo organizzato appunto la perforazione. Perforazione che ha visto poi la realizzazione di un foro profondo 25 metri dal piano di campagna. Piano di campagna che, se guardate nella mappetta in alto a destra, materializza il punto di perforazione proprio al piede del versante a una distanza di alcuni metri per lavorare in sicurezza subito al di fuori del capino di impermeabilizzazione del pianico. Quindi il punto prescelto corrisponde sia al cuore, al nucleo della anomalia di resistività, corrisponde anche a un punto che topograficamente in qualche modo rappresenta la zona più depressa dell'ex bacino estrattivo sopra il quale fu realizzato l'accumulo di rifiuti in lo tempore. Quindi tutte le condizioni di significatività e di importanza del punto prova sono state rispettate a priori per avere la massima capacità di risoluzione e anche una certa prudenza metodologica appunto di esecutività. Quindi il sondaggio è realizzato nel luglio e da agosto 2021 all'interno del foro di sondaggio è stato posato un tubo che permette di fare monitoraggi, campionamenti e costituisce di fatto una sorta di pozzestia che ad oggi viene lasciato in gestione della discarica e potrà essere utilizzato anche in avanti per controlli estemporanei nel corso del periodo del post-mortem, quindi è un'opera definitiva e ovviamente realizzata con tutti i criteri di sicurezza per durare nel tempo e non costituire un punto di partenza negativo nei confronti di migrazioni di contaminanti nel sottosuolo. Da agosto 2021 all'interno di questo foro fino ad oggi, mi risulta che la stazione sia in questo momento in funzione, è stata calata all'interno della tubazione una sensoristica automatica che registra in continuo il livello d'acqua, se c'è acqua, la temperatura dell'acqua e la conducibilità elettrica del fluido. Ricordo che la conducibilità elettrica è un parametro di semplice misurabilità ed è direttamente connesso con le caratteristiche intrinseche dei percolati che sono tipicamente dei fluidi molto salini, quindi è uno dei sistemi più semplici per ispezionare se qualche venuta idrica tendenzialmente può arricchire la conducibilità elettrica naturale dell'acqua e circolati di sottosuolo. Per corroborare questa indagine nel novembre 2021 è stata anche realizzata un'analisi di laboratorio, un'analisi quantitativa delle acque profonde, vedete i campioni prelevati conferenti nella struttura analitica e di questa analisi chimica dovreste avere anche riscontro nella relazione che già è stata ripositata a dicembre del 2021 da altri centri ambienti. Andando a guardare la stratigrafia del sottosuolo qui è interessante correlare la presenza tra 20 e 24 metri di profondità di una formazione limosa, quindi dei materiali sciolti a pezzatura medio-fine che sono in larga misura, se il professor Cassiani raccordo penso che sia una conclusione verosimile, il motivo della detezione della macchia che la geofisica rileva, ovvero questi materiali fanno un po' da spugna, mantengono un certo grado di umidità, questo anche in maniera relativa rispetto a tutti i metri superiori della stratigrafia che vedono la presenza di materiali secchi, materiali di riporto che presentano grosse pezzature con blocchi trovanti, ghiaie e ciottoli dove ovviamente nessuna circolazione idrica permanente è allucciata. Quindi tutta la parte chiara ricompresa dalla parentesi graffa nera per intenderci è asciutta permanentemente e la parte con la graffa rossa compete limi e diciamo che questo livello limoso costituisce un po' il tappo della circolazione idrica che abbiamo rilevato in maniera non permanente in seno ai calcari della parte basale del foro. Prima il professor Cassiani parlava di cavità, in effetti abbiamo anche noi riguardato tra 21 metri e 40 e 22 una cavità di circa mezzo metro nel corso della circolazione e questo è un elemento anche strutturale interessante che poi andremo a vedere nel corso del monitoraggio dei livelli che costituisce una sorta di punto di sfioro permanente della circolazione quindi l'acqua quando c'è è perché ce n'è parecchia a seguito delle pacificazioni e del disgelo di valle ma poi se ne va molto velocemente in ragione della presenza di questo foro, di questa frattura deante che non permette la formazione di un battente stazionario termonente. Quindi la geologia, qui vedete la presentazione delle cassette portacampioni, la cassetta di destra è più intuitiva mostra le carote di roccia nella parte basale, quelle che vedete proprio formate cilindriche di colore chiaro la cassetta di sinistra invece raccoglie i 5 metri di materiali di mosi di cui vi ho parlato quindi matrice fine che al contatto con l'acqua può assorbire una certa quantità di fluido e poi può anche ritenerla in ragione proprio dei fenomeni come la capilarità, la detenzione e quant'altro. Nel diagramma che adesso vi sto presentando è rappresentato il monitoraggio del livello idrico condotto dal luglio 2021 a tutt'oggi, la linea punteggiata rossa rappresenta il fondo del piezonometro a 24 metri e 50 e i pallini rappresentano le occasioni di sopralluogo della squadra che vanno a tentare a scaricare la sonda, il pallino rosso la data di campionamento per la destinazione al laboratorio di analisi e tutti i picchi che vedete correlati con l'istogramma della precipitazione e riportato in azzurro chiaro mostra la dinamica di presenza e formazione dei deflussi nel sottosuolo quindi in tutti i periodi anche prolungati in cui si osserva una linea azzurra orizzontale non c'è acqua nel sottosuolo, nemmeno in roccia e non sta circolando assolutamente acqua in ragione ovviamente dell'assenza di precipitazione. invece se osservate per esempio poco a ridosso di novembre il dato del campionamento vedete nella parte basso del diagramma gli assi dell'istogramma in azzurro chiaro che rappresenta una precipitazione fin espressa in millimetri e a seguito di alcuni eventi prolungati o intensi il livello nel tubo si alza di un paio di metri, mantiene una certa persistenza per alcuni giorni però cessata la precipitazione inizia la curva di svaso e quindi il livello piano piano scende poi se piove si rialza, se non piove invece andrà a stabilizzarsi su una linea orizzontale non tenete conto del primo ramo di esaurimento perché è dovuto al fatto che per la perforazione in roccia abbiamo dovuto utilizzare circa 20 metri cubi di acqua di acquedotto per raffreddare il pensio di scavo quindi tutta la parte di sinistra dove vedete quella ramo è un genere di decrescita del livello ed è intendersi come acqua pulita di acquedotto di perforazione che se ne va piano piano fino alla riscabilizzazione delle condizioni naturali quindi con questo diagrama noi abbiamo un po' la mappatura completa e continua di quella che succede a 20 metri di profondità riuscendo così a correlare in maniera molto precisa la formazione del patente in foro esclusivamente con eventi di natura naturale e in derivazione pluviometrica consolida l'analisi la misura della temperatura espressa qui dalla curva di colore magenta che va rapportata al diagramma delle ordinate secondarie alla destra del grafico quindi la temperatura al fondo del tubo rimane ancorata intorno ai 7 gradi di celsius quindi appunto di temperatura per quasi tutto il periodo di municolaggio questo è molto interessante perché dovete immaginare che nel modello concettuale ipotetico di una perdita intercolato c'è da attendersi che questa possa accadere anche in un periodo estivo in cui l'invaso va un po' in equilibrio con la temperatura esterna la temperatura esterna rappresentata dalla curva di colore arancione e da leggere sull'asse di sinistra dove vedete che appunto l'aria ambiente arriva anche a 20-25 gradi di temperatura quindi ove non ci siano reazioni esotermiche in seno al percolato che ne innalzano la temperatura è da immaginare che se il percolato entra nel sottosuolo possa dare dei segnali anche termicamente misurabili questo non accade, non c'è nessun evento in grado di spiegare un afflusso anomalo di tempo quindi avviate un carico termico diverso da quello che invece rappresenta l'equilibrio profondo e questo è un altro elemento di interesse l'ultimo elemento forse più interessante è dato dalla conducibilità elettrica che vi ho detto essere ampiamente correlabile con le caratteristiche chimiche di intercolato qui senza entrare adesso in dettagli e in tecnicismi è molto interessante osservare che la fascia di oscillazione della conducibilità elettrica degli acque nel periodo in cui si forma il battente a seguito delle precipitazioni è sull'ordine di 300-350 µS per centimetro che equivale al grado di salinizzazione di un'acqua ottima per l'uso umano acqua di lupinito molte acque minerali in commercio hanno una conducibilità elettrica anche molto superiore a quella di cui vi sto parlando quindi questa è acqua dolce, è acqua pulita, è acqua che non ha in nessun momento di questo anno di monitoraggio non dà modo di verificare nessun influsso anomalo che possa far presupporre una qualche perdita significativa e misurabile di percorato da una discarica ripeto, il punto di cui parliamo è, come dire, organizzato nella maniera ottimale per andare a cercare i segnali di cui vi ho parlato la tabella riporta per completezza gli esiti dell'analisi chimica di novembre dove abbiamo rapportato le caratteristiche principali anioni, capioni, piuttosto che azotoni ammoniacali o metalli che costituiscono i braccianti tipici dei percorati di discarica con le acque del percorato e del sottotelo se guardate, per esempio, la conducibilità elettrica che abbiamo appena visto l'acqua profonda 304 micro cms il sottotelo arriva a 2.000 anche ma il percorato, come vedete, arriva a 15.000 micro cms quindi laddove ci fossero degli indizi interessanti questo era uno dei primi controlli che dal punto di vista istologico come ha detto il professor Cassiagli era interessante eseguire e le riprove, quindi, anche dal punto di vista degli esiti del laboratorio sono assolutamente rifrancati quindi andando a sintesi i risultati conseguiti mostrano che i caratteri fisici e chimici delle acque sotterranee intercettabili del protospia percorato al ridosso dell'impianto sono una prova concreta della mancanza di collegamenti funzionali con il corpo dei rifiuti quindi in nessun caso, in nessun momento abbiamo mai osservato nessun tipo di collegamento tra percolato e acque presenti nel suono dal punto di vista geologico la circolazione profonda è legata unicamente all'infiltrazione di acque meteoriche o di desiderio di male e, aggiungo, le informazioni raccolte fanno intendere che il meccanismo prevalente di deflusso profondo sia regolato da dinamiche di moto orizzontali più che verticali quelle verticali ci avrebbero preoccupato quelle orizzontali invece sono assolutamente normali e sono ovviamente da relazionare con la struttura profonda del bacino intercettato dal nostro tubo spie la circolazione profonda, ripeto, a 25 metri di profondità dal piede inferiore della miscarica non è permanente, l'abbiamo visto nell'andamento di regime e questa saturazione dipende esclusivamente dal regime degli afflussi meteor non sussiste quindi nessun indizio o comunque effetto ricondicibile al percolato che possa essere completamente ipotizzato tramite le misure anche le risultanze analitiche corroborano questo quadro e consentono di concludere che a tutt'oggi nessun messo di causa attivo o significativo tra rifiuti e l'ambiente di regime biologico è da ritenersi in funzione vi ringrazio grazie ingegner Sottani ringrazio anche ingegner Cassiani perché è stato fatto un approfondimento che era utile per noi perché si era generato dopo anni nell'esistenza di questa discarica un timore che potessero essere delle complicazioni sottoporti ambientali proprio per fuggare tutti i dubbi veramente del funzionamento ovviamente anche quella che era l'ipotesi spaventata di uno spersamento di percolato abbiamo deciso di comprire questo incarico che oggi ci conforta anche sulla tenuta di questo grande contenitore non so se Inger Cameron voleva si beh innanzitutto porto io sono la 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 stata in parte utilizzata. Prometto una questione, innanzitutto noi ci siamo messi a disposizione in questa fase del comune e dell'università perché abbiamo ritenuto che acquisire queste informazioni potesse essere di supporto soprattutto per fare chiarezza, non tanto perché noi avessimo dei dubbi perché, dico francamente, la discarica si lega un piano di monitoraggio e controllo che si è avuto nel tempo, che prevede, tra le tante cose, il controllo del battente in diretta del calcolato sul fondo delle aziende. Ci sono due stazioni, due passivi, il principale che è il calcolato e un secondo presunto, io dopo la presenza di due teni e un metro di di argilla, c'è un secondo draimo con una bomba che cattura eventuali fuori uscita. Ecco questa, questa seconda guardia non ha mai rilevato presenza di percorato, si aziona un paio di volte all'anno ed estrae principalmente acqua ricondensa e informazioni di questo tipo. oltre questa guardia c'è un altro strato di un metro di argilla, è un'argilla che ha delle caratteristiche molto piccolate e ha dei coefficienti di K10-9. Quindi grazie al fatto che è stata costruita con perizia della riscarica non ha mai mostrato segni di perdite, voglio dire bene questa relazione, questo studio, ma credete che ASA non ha mai avuto il sospetto di perdita altrimenti quel controllo del battente che abbiamo in diretta avrebbe mostrato comunque un cedimento, avrebbe stato comunque una perdita e invece il battente cresce ogni giorno in funzione delle precipitazioni. Fortunatamente anche i lavori del pristino finale conclusi, come ha detto giustamente il dottor Soltani a giugno per gli avventi, sono stati collegati favorevolmente il capping e questo mantello che protegge il rifiuto mostra degli indici particolarmente elevati di efficienza. Siamo passati, pensate, durante la gestione 5-6 mila metri cubi di percolato estratti, abbiamo una previsione di 500 metri cubi di anni, adesso grazie alle scarsissime precipitazioni quest'anno, arriviamo a restare 20-30 metri cubi al mese per quella epoca cosa, chiaramente grazie a questo lavoro che è stato fatto. Abbiamo di fronte 30 anni di gestione dove c'è un piano di monitoraggio controllo nuovo appena trovato da ARPAV che prevede un presidio continuo per la servizia di ARPAV, una misurazione bisettimanale della produzione del biogas, che è una torcia attiva che continuo estrae e incenerisce il biogas. Abbiamo, come detto, un presidio sul controllo del percolato, tutte le potenze ambientali che ARPAV ha decretato come attività tra questi trent'anni post-mortem, prima della minerale all'inizio nazionale del rifiuto. E' chiaro che nessuno sa cosa succederà tra trent'anni, però noi come soggetti gestori siamo chiamati a rispettare tutti questi termini e sarà un'attività, quindi sapete il Megagon ha delle difficoltà soprattutto logistiche. E' un sarcofalo, non mi stancherò mai di dirlo. E' un'occasione anche per me che vi ho costruito quella discarica di, ancora una volta arriva a dire, che è stata un'opera, possiamo discutere certamente sulla localizzazione ma non sulla qualità dell'opera. della Comun, fortunatamente, come detto, è un sarcofalo, dovremmo essere sempre molto attenti a gestirla, prima perché abbiamo le loro condizioni da rispettare, e dappuriché perché un'attenta gestione consentirà anche a contenere il pese che sono ingenti, perché la logistica dei trasporti, soprattutto la neve invernale, non sono aspetti innasturabili durante la gestione. Comunque c'è del personale a detto che dovrà fare questo, però io sono uno di questi perché le rispondo personalmente sulla qualità della gestione. C'è in programma, tanto di più adesso, per la ricomposizione finale, diciamo, chiamiamolo così, del sito, abbiamo fatto una gara da fatto per la demolizione delle strutture rischetti, quindi ci sarà, diciamo, una restituzione al territorio. Già un'immagine prima, diciamo, io prendo quei posti, l'ho vista, che è ben avuto, insomma, io ricordo il primo cani, che è stato scaricato nel mio alunno, adesso l'avendo ricomposta, insomma, personalmente la riferimento, io sono di parte, ovviamente, però l'avendo ricomposta bene, anche la demolizione delle strutture estetiche che adesso sono assolutamente inutili, va in questa logica di ricomposizione. Noi, e finisco, non abbiamo chiaramente, rispetteremo il piano di monitoraggio e controllo. Questa è un'attività che abbiamo fatto aggiuntiva per dover istituzionare, chiaramente, in forma che abbiamo fatto in un luogo dove non ha retta danno. Per noi l'indagine, noi l'indagine la consideriamo ultimata, il foro rimane, non abbiamo dubbi sul fatto che la discarica a terra, come vi ho detto, abbiamo un controllo della patente idraulico e che manterremo sempre di sotto del metro di battente, quindi pensate alla discarica, al massimo potrà contenere circa quindici metodi per colare. Sono alla portata del primordiero, per fortuna, che ha ogni secondo, proprio il primordiero, proprio, quindici metodi per colare. Non c'è bisogno in questo momento di sospettare, assolutamente, però ci siamo resi ben volentieri disponibili di sostenere questa iniziativa che adesso, fortunatamente, abbiamo visto concludersi nel migliore dei giorni, quindi, insomma. Ringrazio per questo il nostro conflitto dottor Sottani e anche l'università, perché ho visto che durante queste prove c'è stata molta condivisione degli obiettivi e molta collaborazione. Quindi questo ha aiutato, certamente, a dare un senso fuoco. Io non ho riaffrontato a dirlo. Grazie. Volevo capire l'acqua che di lei parlava, che è potabile, è proprio sotto la discarica. Ah, si truisce sotto la discarica. E' proprio un tipo di una sorgente, cosa sarebbe? No, è una circolazione che si sviluppa, allora che innescata da flussi meteorologici su ampia scala, all'interno di, come dire, fessurazioni. E' un altro movimento? E' un altro movimento, certo. E quanto profonda è? Noi l'abbiamo rilevata intorno agli 23 metri. E' quasi un laghetto? No, perché non è permanente. Quindi è un livello che sale e scende, si alterna nel corso dell'anno, per lunghi periodi è tutto asciutto, poi quando piove questa onda di saturazione si muove lungo il reticolo di fessura nella direzione della gravità, secondo i componenti della forza di gravità, quindi non è una vera propria. Quindi ci sarebbe di fatto un vuoto sotto? Diciamo che ci sono delle fratture più o meno aperte, più o meno aperte, ma stiamo parlando che rispetto alle cavità che sono fatte al progetto dell'indagine dell'ecofisica di tutt'altra tipologia. Scusi, ma io volo meglio anni. Nel senso che nel sottosuono l'acqua c'è sempre. Il fatto che sia sfruttabile come risorsa dipende dalla probabilità del sistema, cioè quant'argo c'è e quant'argo c'è e quant'arginalmente si è già di strada. No, praticamente in pieno di quale c'è la viagra si è stata velocemente e si fa andare. Un sistema calesico così ci sono sicuramente tessure più grandi e piccole. Io mi aspetto che sotto quel livello di litigia che puoi scendere sicuramente più basso sia quasi tutto sapo alla fine, più o meno. Ma che il fatto che sia sapo è una media di siano grandi qualità. è come se fosse un asciugamano bagnato. Quindi, che ci sia acqua di sotto, che nessun'unità. Che sia acqua pulita, che sia potabile, che il normale rischio di potabilità dell'acqua è la stessa che ogni anno che riesce ad eservenire. Questo vuoto che è sotto il terreno di fa? Nella roccia ci sono sempre delle... Sotto la roccia, perché sopra la roccia c'è questa gettata di cemento, per intenderci, da cui parte la polipasos. Certo, no? Sì, più che cemento. Sarebbe sotto la roccia. Sono panchi di argilla. Sono panchi di argilla. Quindi, sarebbe sotto la roccia. Cioè, a cui poggia la cascata e la roccia si sentono. Bene? Sì, posso chiedere. Non ricordo più l'analisi che avete fatto voi sulla presenza di ruoti sottorali, fino a che profondità avevate rilevato circa. Sì. Beh, sicuramente... Diciamo, vorrei dire che la presenza era, fino a qualche decennio, anche sotto la roccia, nella roccia personalizzata. Sì. E' il conto che, si fa anche un discorso più generale, sicuramente sul carità, la prima cosa è meglio. Ma questo, questo ambiente, questo ambiente è fondamentale, perché non è anche a caso, no? Si è anche calato, in quel posto, dove c'è un accumulo di argilla, di argilla, è anche un posto profondo che è stato cavato, no? E infatti non ci saranno alcuni eserimenti, non ci sono. E... Quando è stata toccata via di dove c'è la roccia? Si è alleggerito, che si sa. Quindi, adesso voglio parlare in un momento, il troppo semplice. l'accumulo di argilla, di seguito, non ha appesito il sistema, ed è giunto il suo momento che deve essere rotato. Dopodichè, però è appesimo, chiude la roccia, dunque. Però, se ci diamo sotto, veramente, anche sotto la base, di quella che vediamo, come dovresti ci aiutare, ma non vedo che non possano essere puliscono, perché, se non, eventualmente, ci saranno dei punti, un punto, una cosa della montagna e delle montagne, delle montagne. Sì, diciamo che, lo studio, che abbiamo commissionato, per vedere se c'erano dei vuoti, tanto per riepidogare un attimo, è perché, a distanza di circa, con linea d'aria, 300 metri, c'è un'altra carva di fronte, dove è presente un abisso, che è stato esplorato, l'abisso glare, è stato datestato con questo nome, che aveva il soffitto, che ha il soffitto, a circa, se non vado, 4 metri, dal piano, della cava, ed è un pozzo, molto profondo, molto largo, è una zona tutta, con notevole presenze, classica, quindi, il fatto, di aver, di aver potuto rilevare, che sotto, alla vecchia cava, melagon, poi, diventata discarico, pur essendoci fessurazioni, sia verticali, che orizzontali, non siano, però, state rilevate, delle cavità, di notevoli dimensioni, nel spessore, di qualche decina di metri, questo è sicuramente, confortante, perché stessa cosa, non sarebbe stata, nella cava di fronte, diciamo, così siamo sempre, nella stessa zona, quindi, questo è stato, diciamo, un elemento, che ha, come dire, tagliato la testa, il toro, per quanto riguarda, una, pericolosità, immediata, ecco, e questo, ci ha resi, no, tranquilli, da questo, punto di vista, il fatto, che venga, monitorata, per i prossimi, trent'anni, anche questo, è, importante, sempre, considerando, eh, che l'alto piano, è il secondo massiccio, passico, d'Europa, che ci sono, circa 8.000, cavità, cadastate, e quindi, diciamo, che anche, a livello, ben più alto, del nostro, della regione, fino alle leggi nazionali, magari, territori, come il nostro, non dovrebbero, neanche, essere, ricompresi, per la realizzazione, di, di certi interventi, pur, sono d'accordo, con quanto ha detto, l'ingegnere Camerini, che, sulla, eh, con la quale, è stata fatta, la discarica, sulla tecnica, sul materiale, credo che, anche all'epoca, fosse, la più uguale, avanguardia, su questo, non, credo che nessuno, avesse mai, rilevato, nessun, niente, è stata, la scelta, della, posizione, però, adesso, insomma, possiamo stare, un po' più tranquilli. grazie, grazie, ci sono domani, da parte dei giornalisti, ecco, bene, un po' più tranquilli. Allora, grazie. Allora, Ringrazio tutti quanti, per la presenza, eh, penso che, queste grandi, ingagini, siano state importanti, proprio, come amministratori, per capire a che punto, stiamo con, i controlli, di questa discarica, che è stata definita, nel momento, già. Sia, capire, in futuro, e sia anche, per comprendere, che, eh, questo tipo di opere, non devono essere più realizzate, nel nostro territorio, proprio perché, abbiamo un territorio, così fragile, così, eh, importante, dal punto di vista, proprio delle, eh, ambientali, per la conservazione, delle, delle fonte d'acqua, che vengono qua, generate, da una realtà, non risorgire in pianura, e, dobbiamo, eh, ricordarci, che, dobbiamo, evitare, di, eh, di integrar, di, eh, di quarant... Si fanno, sono ammesse solamente nei siti dove c'è già la presenza di azienda, non sarebbe accaduto, perché è già, allora ci sono dei, ci sono, c'è qualche sicurezza, questo però deve già presentare un banco naturato di azienda, quindi è evidente che ci, tutto il nostro territorio non sarà più colpito, quindi teniamo i similiari come decidiamo. Cioè l'Italia è un paese dove ci sono un sacco di norme che spesso non hanno messo i fatti, questa dista è stata creata in un periodo in cui esisteva già una formativa capitale che diceva chiaramente non si riesce, sono spistanti per l'Italia L'Urasco, quindi sul fatto che l'Italia è un paese che sarebbe ben precindicato, sì, è una formativa che è un'unità superiore. E' importante sarebbe che la Comunità Europea mettesse anche dei fondi a disposizione per esempio per bonificare le centinaia di discariche che ci sono in tutti i territori nazionali, non so come funzioni all'estero, che quelle sì invece sono state realizzate magari prima della legge di discariche controllate e che sono innumerevoli e anche quelle magari a tipo di rifiuto diverso perché magari sono per lo più rifiuti soliti, urbani e normali, diciamo così, però sono più sempre discariche. Mi va bene. Grazie.